Ciao ragazzi, in questo video vediamo quali sono i passaggi principali per svolgere uno studio di funzione. I passaggi principali sono lo studio del dominio, delle simmetrie della funzione, dopodiché si passa a vedere quali sono le intersezioni del grafico della funzione con gli assi, si studia il segno della funzione, i limiti e gli asintoti e dopodiché si passa a studiare la derivata prima per ritrovare la crescenza e la decrescenza della funzione e i punti di massimo e minimo. Si passa quindi allo studio della derivata seconda in modo da poter tracciare il grafico. Vediamo nel dettaglio la spiegazione di tutti questi passaggi. Vi consiglio inoltre di guardare i video che trovate nel canale dedicati a questi argomenti e che ritrovate riportati in descrizione. Partiamo dal dominio. Nel caso in cui andiamo a studiare una funzione fratta, quindi una funzione f di x definita come un certo numeratore n fratto un denominatore d, per calcolare il dominio dobbiamo andare a imporre che il denominatore d sia diverso da zero. Nel caso in cui andiamo a studiare una radice di indice pari, come ad esempio una radice quadrata, e quindi una funzione del tipo f di x uguale radice di a di x, andiamo a richiedere che l'argomento della radice a sia maggiore o uguale di zero. Infine un terzo caso particolarmente importante è quello del logaritmo, f di x uguale al logaritmo in base b di a di x. In questo caso richiediamo che l'argomento del logaritmo a sia strettamente maggiore di zero. Questi tre casi sono i più importanti da ricordare. Infatti, negli altri casi che si vanno a studiare tipicamente, il dominio non deve essere ristretto. Ad esempio, se andiamo a studiare funzioni polinomiali, abbiamo che il dominio massimale corrisponde a tutti i valori di r. Anche nel caso di una funzione esponenziale, f di x uguale b alla x, con base b positiva, possiamo andare a considerare accettabili tutti i valori di r. Stesso discorso per le radici di ordine dispari, come ad esempio una radice cubica. Di nuovo possiamo assumere validi tutti i valori di r. Stessa cosa per le funzioni trigonometriche seno e coseno. Fate però attenzione ad altre funzioni trigonometriche, come ad esempio la tangente, che sappiamo essere uguale a seno fratto coseno. In questo caso allora dobbiamo richiedere che il denominatore sia diverso da zero, e quindi che il coseno sia diverso da zero. Questo implica che l'argomento sia diverso da π mezzi più kπ. Se invece andiamo a studiare funzioni trigonometriche inverse, come ad esempio l'arco seno oppure l'arco coseno, dobbiamo andare a richiedere che l'argomento sia minore uguale di 1 e maggiore uguale di meno 1. Nel caso in cui invece andiamo a studiare l'arco tangente, tutti i valori di r sono accettabili. Il secondo passaggio che spesso si va a svolgere nello studio di funzione è lo studio delle simmetrie della funzione. E quindi vi ricordo che una funzione è pari quando f di x è uguale a f di meno x per ogni x appartenente al dominio. Il grafico delle funzioni pari è simmetrico rispetto all'asse delle y. Vi ricordo inoltre che una funzione è dispari quando f di x è uguale a meno f di meno x per ogni x appartenente al dominio. Il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine degli assi. In questo canale YouTube trovate due video dedicati alle funzioni pari e dispari che vi consiglio di guardare. Il prossimo passaggio dello studio di funzione è lo studio dell'intersezione con gli assi. Possiamo allora determinare l'intersezione del grafico della funzione con l'asse y andando a porre x uguale a 0 e calcolando f di 0. In questo modo troviamo come punto di intersezione 0 f di 0. Chiaramente questo passaggio si può svolgere solo nel caso in cui x uguale a 0 sia nel dominio. Possiamo poi determinare l'intersezione del grafico della funzione con l'asse x risolvendo l'equazione f di x uguale a 0. Fatto questo passaggio vi consiglio sempre di riportare quanto trovato sul grafico che andate a costruire man mano che studiate la funzione. Fatto questo si passa allo studio del segno della funzione, un passaggio particolarmente importante. Dobbiamo andare a risolvere la disequazione f di x maggiore di 0 per determinare in quali intervalli la funzione è positiva o negativa. Fatto questo vi consiglio di riportare quanto studiato sul grafico utilizzando il metodo delle regioni. Ciò significa che dopo aver riportato i punti di intersezione con gli assi potete andare a cancellare le zone in cui sicuramente il grafico non passerà. Quindi negli intervalli in cui la funzione è positiva andate a cancellare questa zona negativa sotto l'asse. Viceversa, negli intervalli in cui la funzione è negativa, cancellate la zona che sta sopra l'asse. A questo punto si passa allo studio di limiti assintoti, uno dei passaggi fondamentali in uno studio di funzione. In particolare si vanno a calcolare i limiti, eventualmente limiti destri o sinistri, verso gli estremi degli intervalli che compongono il dominio che abbiamo calcolato precedentemente. Andiamo quindi a studiare i limiti verso quei valori che abbiamo determinato nei passaggi precedenti. Se troviamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a più infinito, o analogamente il limite sinistro, cioè il limite per x che tende a x con 0 meno di f di x è uguale a più infinito, stessa cosa nel caso in cui questi limiti facciano meno infinito, possiamo dire che la retta di equazione x uguale x con 0 è un assintoto verticale per la funzione. Quando invece il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a un valore reale l, o analogamente quando il limite per x che tende a meno infinito di f di x è uguale a l, possiamo affermare che la retta y uguale a l è un assintoto orizzontale della funzione. Nel caso in cui il limite per x che tende a più infinito della funzione sia uguale a più infinito oppure a meno infinito, potrebbe esserci un assintoto obliquo. Dobbiamo quindi passare a studiare questa eventualità. Un assintoto obliquo è una retta di equazione y uguale mx più q in cui il coefficiente angolare m è dato dal limite per x che tende a più infinito di f di x fratto x. Per esserci l'assintoto obliquo questo limite deve esistere e deve essere diverso da zero e diverso da infinito. In questo caso andiamo allora a studiare l'intercetta q, che è data dal limite per x che tende a più infinito di f di x meno mx. Per esserci l'assintoto obliquo deve esistere questo limite ed essere diverso da infinito. In questi casi allora ritroviamo che y uguale mx più q è un assintoto obliquo per la funzione. Chiaramente queste formule funzionano anche per x che tende a meno infinito. Vi consiglio di guardare i video dedicati a questo argomento che trovate nel canale. Concluso lo studio dei limiti e degli assintoti, si passa allo studio delle derivate e in particolare della derivata prima e seconda, in modo da poter determinare la crescenza e la decrescenza della funzione. I punti di massimo, minimo, locale oppure i punti di flesso, i punti di non derivabilità e la convessità oppure la concavità della funzione. Vediamo questi passaggi nel dettaglio, partendo dallo studio della derivata prima. Se la derivata f' di x è strettamente positiva per ogni x appartenente a un intervallo a b, allora la funzione è crescente in questo intervallo. Viceversa, quando la derivata f' di x è strettamente minore di 0 per ogni x appartenente a un intervallo a b, la funzione è decrescente nell'intervallo. Nel caso in cui la derivata prima sia uguale a 0 in un punto x con 0, si dice che x con 0 è un punto critico oppure un punto stazionario della funzione. Possono esserci allora tre casi. Che x con 0 sia un punto di massimo locale per la funzione. In questo caso la derivata seconda in x con 0 è minore uguale di 0 e la funzione è concava. Può essere che x con 0 sia un punto di minimo locale. In questo caso la derivata seconda in x con 0 è maggiore uguale di 0 e la funzione è convessa. Può essere infine che x con 0 sia un punto di flesso orizzontale. In questo caso la derivata seconda in x con 0 è uguale a 0. Studiando la derivata prima troviamo anche i punti di non derivabilità, cioè i punti in cui non esiste la derivata prima. In questo caso se x con 0 è un punto di non derivabilità potrebbe essere un punto angoloso oppure un punto di cuspide oppure un punto a tangente verticale. Vi consiglio di approfondire questo argomento guardando il video dedicato. Passiamo infine allo studio della derivata seconda. Se f secondo di x è maggiore di 0 per ogni x appartenente a un intervallo a b, la funzione è convessa nell'intervallo. Viceversa, se f secondo di x è minore di 0 per ogni x appartenente a un intervallo a b, allora la funzione è concava in questo intervallo. Infine, se la derivata seconda in x con 0 è uguale a 0, allora x con 0 può essere un flesso della funzione. Svolti tutti questi passaggi si può infine concludere lo studio della funzione andando a tracciare il grafico, tenendo presente tutto quello che si è studiato nei passaggi precedenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come svolgere in maniera ordinata uno studio di funzione. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e fate un commento. A presto!